Due iniziative di lotta questa mattina che si sono svolte a Catania e a Palermo per la Sicilia orientale e per quella occidentale da parte dei forestali a causa dello slittamento del pagamento delle spettanze di giugno e luglio. Già sollecitato all'assessore all'economia Gaeta Normao e il presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo nei mesi scorsi fondi bloccati per un'ulteriore autorizzazione da parte della giunta di governo per cui le segreterie regionali di Flai CGL e Fai Cisle Willa Will in considerazione delle mancate risposte dal parte del governo regionale insensibile dicono anche all'impegno profuso in questi giorni nella lotta contro gli incendi hanno proclamato lo stato di agitazione per la giornata di oggi. A Catania il tutto si è svolto nella sede dell'ex palazzo ESA. Due iniziative contemporanee a Catania e a Palermo per chiedere che i diritti dei forestali vengano rispettati e soprattutto che vengano pagate anche le spettanze. C'è un assoluto silenzio da parte del governo regionale fino a questo momento? Sì assolutamente non abbiamo avuto nessun tipo di risposta. L'unice interlocuzione l'abbiamo avuto con i funzionali dell'assessorato del Dipartimento Foreste. Loro ci dicono che hanno tutto pronto per poter pagare, hanno anche la liquidità in cassa però c'è questa disposizione emanata dall'assessore Armao che vieta qualsiasi pagamento in virtù del blocco del patto di stabilità. Noi riteniamo questo un fatto grave che dimostra una grande insensibilità sul piano sociale perché qui stiamo parlando di lavoratori che debbano percepire lo stipendio dal primo giorno in cui sono stati assunti e quindi dal primo di giugno. Tra l'altro è vero che ci possono essere questi vingoli ma questi vingoli possono riguardare per la fornitura di beni e servizi e non assolutamente invece per pagare gli stipendi a lavoratori che lavorano e che vivono in una condizione di forte disagio sociale. Tra l'altro la mole di lavoro è aumentata in questi giorni di caldo, ci sono incendi, forestali intervengono ovunque? Assolutamente sì, è solo il nostro grande senso di responsabilità ci ha portato a fare soltanto siti dimostrativi e non manifestazioni e scioperi generali perché sguarnire in questo momento i nostri boschi significa veramente consentire la devastazione di un nostro immenso patrimonio boschivo. Però è chiaro che se di fronte a questo grande senso di responsabilità le istituzioni non ci danno le dovute risposte io credo che alla fine saremo costretti a mettere in gambo delle iniziative più eclatanti rispetto a quelle che stiamo facendo oggi.